Ora però passiamo alle cose interessanti con la prima cassa di nome di oggi, attenzione, subito 3 skip, subito skip luminoso Io stavo scherzando Ehm, non credevo ci fosse davvero lo skip luminoso alla prima cassa Beh, che dire, andiamo a cliccare, tanto ci sarà sicuramente Oh mio Dio! No! No! Non è vero! Non è vero! Ma io adesso prendo un mini estintore e bagno tutto qui Non è vero! Non è, non va, non, 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 non so che cosa dire Ma non doveva succedere così Ma non è, non, 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 oh mio Dio